ciao mirko buongiorno buongiorno allora senti come stai innanzitutto fisicamente sto bene qualche acciacco dalla partita qualche vecchio infortunio si rifà avanti ma sto bene beh abbiamo visto che comunque lei due pack di mischia ci hanno dato dentro di brutto eh sì è stata una partita molto preparata prima e infatti abbiamo trovato una squadra molto molto sia loro molto pronti e se noi sappiamo che fare è stata molto combattuta questo punto di vista lì molto fisica molto molto fisica sì tra parentesi volevo farti gli auguri del compleanno perché tu li hai compiuti l'otto maggio è vero che è passato diciamo che non hai avuto un regalo proprio come dire piacevole no grazie ci abbiamo provato ma non è andato ovviamente senti crociati fiamme oro valo rugby di reggio emilia l'ultima tua squadra dove giochi hai girato tanto hai fatto una bella carriera anche perché sei stato nazionale tu under 20 allora io in realtà ho fatto una squadra cosa poi ho fatto quattro anni a san gregorio petania era una squadra bella squadra solo che finanziariamente non potremmo competere con la società quindi sono fatto quattro anni poi un anno sette mesi crociati siamo salvati contro l'aquila ai tempi e poi cinque anni fa meno le cinque anni adesso tre gini se ogni lustro si cambia gusto rimani rimane al valo raggio pensi di andare ma io resto qua questo proprio chiesto ho trovato una bella famiglia per reggio emilia e quindi non credo di cambiare poi a reggio si mangia così bene che andare via dura si mangia bene sia molto bene è una bella città io ho trovato delle belle persone quindi sto molto bene perfetto senti una partita che finisce 34 16 io da telespettatori l'ho vista non sono venuto a vedere la partita al campo perché comunque da milano è lontanissimo però l'ho vista in televisione mi ha ricordato invece la partita che ho visto dove tu peraltro hai giocato a verona come finale di coppa italia dove avete diciamo condotto voi la partita e poi dopo un certo punto petrarca cambia il ritmo e cosa succede ancora lo sto realizzando però quello che penso che padova è riuscita nessun tempo a trovare una controoffensiva alle nostre difese noi abbiamo preparato molto bene la partita ottima di difesa ottimo attacco solo che padova è riuscita molto meglio di noi a sul momento a cambiare la strategia ad adattarsi alla nostra difesa e a vincere la partita sì perché comunque al cinquantacinquesimo eravate sedici a tre per tredici per voi quindi voglio dire non è che sia stato anche il primo tempo è stato diciamo gestito molto bene da voi si si è un preparato molto bene abbiamo studiata veramente bene la partita e però sì la differenza di essere questa che padova è riuscita uscirne fuori molto bene e noi non siamo stati italiani senti la ricetta di mangi per diciamo contrastare petrarca che cosa è stata basarla più sul fisico sulla velocità sui punti d'incontro tuccio diciamo sicuramente è imposto fisicamente abbiamo fatto molto bene quindi quello che imposto fisicamente è stato rispettato ogni volta rendiamo due uscire uscire con punti quindi abbastanza questo rispetto dopo nel primo tempo o tre punti una metà comunque sono riusciti bene a a far punteggio ripeto anche i divisi andraghi per il tempo molto molto bene è stata questa diciamo non svista ma un merito al padova che è riuscita ad adattarsi alla nostra difesa molto bene tutto qui senti ma padova è così cioè è così forte in ogni reparto perché io non so ho visto molte delle loro partite e diciamo che hanno avuto un calo verso la fine quando poi dopo rovigo ha vinto il cap cioè è arrivata in testa prima nel girone nel campionato sono così resistibili o sono battibili allora padova è una squadra fortissima fortissima non è invincibile sono molto soldi una squadra molto solida molto compatta unita e nei momenti di difficoltà riesce a uscirne con un gruppo perché è un gruppo molto solido dei ragazzi che giocano siamo da anni ovviamente un bel gruppo ne conosco tanti di quei ragazzi ci parlo molto spesso in settimana li sento ho molti amici la è veramente un gioco molto efficace ok tra parentesi tra parentesi no tra parentesi dicevo una partita molto fisica come dicevi tu basata tanto sull'imposizione non è stata però una gran bella partita a mio giudizio modesto cioè di giocate belle se ne sono viste poche è stato giocato proprio tutto molto sul breakdown e ai minimi ma sì io ancora devo guardarla non ancora studiata perché prendo qualche giorno per riprendere però sì c'è stata tanta sfida fisica uno contro uno e per molto tempo abbiamo vinto noi questa sfida questi impatti quindi la partita si era messa dallo punto di vista a buon punto si è messa bene secondo me sì potevamo giocare forse un po diversamente magari adesso possono di poi è molto facile parlare eh sì però non abbiamo conseguito molto bene questo schema di gioco era quello lì l'abbiamo seguito perseguito molto bene l'abbiamo imposto quando c'era il bordo e l'anno prossimo faremo qualche certo di essere senti tra parentesi è stata una sfida nella sfida quella tra newton e l'ail perché sono stati veramente due cecchini importantissimi e diciamo che una buona parte della partita l'hanno fatta loro è sì per me sono entrambi due fenomeni entrambi sono due fenomeni nel campione italiano tra i migliori giocatori del loro è uno perché ci gioco l'altro perché l'ho studiato lo vedo tra tutti i grandi professionisti e tanti giocatori sì sì insieme a se baios è un altro che grande trasformatore sì sì infatti ha fatto una partita grande cecchino da anche la distanza se vario soprattutto la stagione quest'anno tu hai vista la partita hai visto ha fatto anche una bella meta e oltretutto c'è per essere uno con le caratteristiche fisiche sue è riuscito a fare uno slalom rompere due placaggi e andare in meta e siamo molto bravo maggiore senti cosa ti aspettavi tu da quella di partita pensavi che sarebbe finita così o avevi certo punto pensato che color non la potesse sfangare ovviamente il pronostico da perdita per vinto l'orrigo è una storia di una bella storia abbiamo giocato un altro è stata sofferta sia lì che noi è giovane ha una bella squadra un bello staff tecnico probabilmente gli manca un po di esperienza nelle finali sicuramente il pronostico da aver vinto l'orrigo guardando le partite invece no invece l'ultimo la giocata addirittura color l'ultima azione se magari piazzava la portano a casa probabilmente ha dato delle scelte particolari quindi fare l'ultimo complimenti anche a color che ha fatto un parte un'ottima stagione degli ottimi playoff e non c'è la meridia se stiamo in finale l'avrebbero meritato tranquillamente si è stata una partita anche la loro molto equilibrata senti voi poi avete l'ultimi dieci minuti diciamo che siete andati un po in affanno tant'è vero che l'arbitro un arini che si aggiudica il primato come primo arbitro donna arbitrare una finale di top 10 che peraltro anche mantenuto bene secondo me gestito bene il gioco c'è stato qualche fuori gioco è sia da parte vostra che da parte loro che non non è stato visto però diciamo che ha avuto abbastanza carattere mi vabbè ho capito e però insomma vi ha dato l'ultima la meta che avete preso metà di punizione c'era prima c'era un muro del padre così c'era ok no ma adesso si può dire tutto quando si può dire l'altro e adesso mentre veramente luce mentre fredde si può vedere tutto quanto dei fagli sono meno pescati da parte nostra da parte loro vabbè è inutile parlare adesso perché tanto ma non cambia niente cambiamo il discorso ok senti ci sarai a parma per vedere la finale probabilmente sì sì perché vado in ferie giugno quindi andrò a giugno quindi sì andrò a vedere probabilmente ragazzi cosa fai cosa fate adesso voi adesso andate in ferie cioè andate in vacanza io parlo da poliziotto vado in ferie giugno per quanto riguarda la squadra abbiamo ancora ancora non abbiamo chiuso continueremo tutto maggio probabilmente e poi aspettiamo direttive ok quindi la preparazione cosa sarà quando poi inizierà luglio probabilmente sì ancora non sappiamo le dati ma comunque sì sarà inizio metà di luglio ogni anno e poi andiamo avanti fino all'ottobre ah senti poi dopo ti lascio andare top 9 ok ne pensi tu e poi dall'anno dopo ancora top 8 cosa ne penso guarda e non so perché probabilmente è un è un modo per aumentare il livello forse per concentrare in meno squadre dei giocatori più talentuosi forse quello io la mia paura è quella che con meno partite alcune squadre non li vorrei sicuramente alcune squadre possono decidere di pagare meno i giocatori in quanto in quanto riducono il contratto in quanto l'impegno non è più dieci mesi inizio per otto e alcuni giocatori che fanno questo di come primo lavoro e hanno una famiglia hanno comunque delle responsabilità non posso permettersi di prendere otto stipendi magari per un lavoro che ti piega tutto l'anno perché comunque giocherai vincere in eccellenza quello che sia comunque l'impegno è H24 12 mesi l'anno non c'è un mese di stop perché comunque anche nello stop c'è un allenamento quindi la mia paura è questo che che a parlare di signor giocatori e beh questo è un aspetto che sinceramente non avevo valutato però secondo me si molto probabilmente si alzerà anche il valore a me sono concesso che le società siano disposte a fare delle campagne acquisti mirate di contro si si saranno anche meno partite da vedere questo per per quello che riguarda il tifoso è un peccato ecco certo per delle squadre che hanno un grosso seguito come rovigo padova che hanno dei tifosi che comunque seguono la squadra comunque è una grossa parola se già due partiti a meno fanno una differenza è sì ma adesso creando ancora stiamo lavorando per creare il nostro tifo quindi piano piano stiamo aggiungendo due mesi più grandi ogni partito si sente vigente quindi questo aspetto quanto a me non ci tocca personalmente però così questo due le squadre con città il campionato e meno almeno tempo ho paura che non sia un bene per noi ma magari per la federazione sì ma sai io credo che sia una problematica legata molto anche a quello che può essere lo spettacolo e l'audience cioè se ci sono delle squadre che peraltro quest'anno è stato un bel campionato perché lo stesso torino è stata una squadra competitiva perché tutti quali gli allenatori che ho sentito mi hanno detto che insomma il momento di incontrare il torino era sempre un momento delicato perché era una squadra proprio la classica squadra ostica da incontrare quindi è stato un campionato divertente senza la squadra materasso di turno sì sì torino è stata una bella squadra sia sia qua che sia qua che là comunque abbiamo vinto tranquillamente ma comunque abbiamo dovuto preparare molto bene perché è una squadra comunque si è sempre presentata affamata un paolo di vincere giocare tutti i palloni quindi da non prendere sotto gamba sia loro sia mogliano comunque hanno lottato fino all'ultimo per la recessione comunque due per le squadre non c'è stato mai questo metto disequilibrio tra la prima e l'ultima ogni partita della giocata questo forse da spettatore sì un campionato abbastanza equilibrato anche se poi c'è stato un distacco tra le prime cinque sei come è normale che sia però sì campionato abbastanza piacevole a vedere vediamo l'anno prossimo con nove squadre cosa succede prossimo sarà una bella cosa perché le squadre sono rinforzando particolarmente è rischio ci sarà da giocare senti mi fai il pronostico per sabato prossimo pronostico e io gioco ovviamente di più in padua è una squadra che sa vincere le finali dove sa vincere i finali sa prepararle bene e per me sì per me è sempre al limite al punto ma vado da portare a casa ok va bene allora vedremo i bookmakers che cosa dicono ok ti ringrazio ci vediamo a parma ok va bene grazie mille a presto ciao ciao ciao